Ben ritrovati al Notice di Antenna 3. Vediamo subito insieme come di consueto gli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che nella suggestiva cornice di Villa Ancillotto a Crocetta del Montello, il comune di Crocetta del Montello e l'associazione Art Dolomites APS organizzano dal 9 ottobre al 9 gennaio la seconda parte della trilogia espositiva La rivoluzione silenziosa dell'arte in Veneto 1940-1970 da Music a De Luigi e Tancredi. Oltre 80 opere di artisti veneti come Vedova, Guidi, Santomaso, Pizzinato, gli spazialisti e il gruppo N saranno visitabili al pubblico nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 19 e sabato, domenica e i festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19. Informazioni e prenotazioni sul sito www.artdolomites.it oppure scrivendo a prenotazioni chiocciola artdolomites.it Nel 1990 le due Germanie si riunirono. A circa un anno dalla caduta del muro di Berlino le due Germanie tornarono ad essere una sola nazione. In questa data i cinque lander della Repubblica Democratica Tedesca, nota come Germania dell'Est, firmarono il trattato di unificazione aderendo alla Repubblica Federale di Germania, cioè l'Ovest. Nel dicembre dello stesso anno si tennero le prime elezioni libere cui presero parte tutti gli elettori tedeschi. L'enorme gap economico e industriale tra Ovest ed Est si ridusse gradualmente nel corso degli anni. L'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Con la curiosità del territorio di oggi andiamo a Negrar a conoscere un tesoro archeologico sotto le vigne. Dopo innumerevoli decenni di tentativi falliti finalmente è stata riportata alla luce parte della pavimentazione e delle fondamenta della villa romana ubicata a nord del capoluogo scoperta dagli studiosi oltre un secolo fa. I tecnici della soprintendenza di Verona con un carottaggio mirato del suolo stanno parzialmente scoprendo i resti del manufatto ancora presenti sotto alcuni metri di terra con un obiettivo preciso identificare l'esatta estensione e l'esatta collocazione dell'antica costruzione. Una meraviglia dunque che è in attesa soltanto di essere scoperta. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.